Sei un cittadino extraeuropeo o hai un background migratorio? Hai un'idea di business e vuoi avviare un'attività in proprio? Con il progetto Future, le camere di commercio possono aiutarti a trasformare la tua idea in una vera e propria impresa. Future ti accompagna attraverso un percorso di formazione per migliorare conoscenze e competenze manageriali, di assistenza sui prodotti finanziari e le procedure burocratiche e amministrative, e di accompagnamento per la preparazione del business plan. Per maggiori informazioni contatta subito la tua camera di commercio unioncamere.gov.it